Stasera cena su Marte. L'universo. È la più grande impresa che l'umanità abbia mai tentato. La Terra. Finiremmo di avvelenare la Terra. L'uomo. La prima missione su Marte con equipaggio umano. Al centro di un destino più grande. Le speranze e la sopravvivenza dell'umanità sono affidate a noi. Per il ciclo oltre l'ignoto. Mi ricevete, passo. Val Kilmer. Carrie and Moss. Pianeta Rosso. Venerdì alle 21. Con Iris.